GF VIP, Belen rimproverà la sorella in diretta TVV in Sweden La showgirl argentina Belen Rodriguez contro sua sorella Cecilia da Maurizio Costanzo Show . . Proprio riguardo a questo argomento, ci sono state alcune piccole scaramucce in diretta tra le due sorelle, in merito ad un inedito pensiero di Belen, che fino a questo momento aveva sempre difeso sua sorella dai numerosi insulti social. Belen a Cecilia, ti avrei preso a schiaffi. Infatti, la showgirl argentina Cancelletto Belen Rodriguez non avrebbe per niente gradito alcuni atteggiamenti della sorella allinterno del reality show di Canale 5 e, ieri sera, al Maurizio Costanzo Show ha finalmente vuotato il sacco, esprimendo il suo pensiero. . In particolare, la Rodriguez avrebbe ammesso che non ha per niente gradito lormai famosa scena dellarmadio che ha creato un caos incredibile sul web, in quanto la gente sui social ha ipotizzato che tra Cecilia e Ignazio si fosse consumato un rapporto orale allinterno dellarmadio. . Infatti, Belen ha ammesso che quando ha saputo della storia dellarmadio, sarebbe voluta entrare allinterno della casa del GFVP e prendere sua sorella per i capelli. . Infine, la Rodriguez senior conclude dicendo che Checo ha dato tanto spettacolo allinterno di questa seconda edizione del reality di Mediaset. . . Dunque, una vera propria frecciatina quella di Belen nei confronti di sua sorella Cecilia, che ha fatto sapere solo ieri sera di non aver digerito per niente la questione dellarmadio. La risposta di Cecilia Rodriguez. . La reazione di Cecilia alla frecciatina di sua sorella non si è fatta attendere e, poco dopo le parole di Belen, ha risposto indispettita che lei non ha mai agito per dare spettacolo, ma sempre e solo con il cuore. . . Infatti, cancelletto Cecilia Rodriguez ha ribadito ancora una volta di essersi perdutamente innamorata dellex ciclista Ignazio Mosere e adesso ha solo voglia di pensare ad un futuro con lui. . . Poi, la ragazza argentina ha affermato di essere molto contenta della decisione che ha preso durante il GFVP e che da quando lei ed Ignazio sono fuori dalla casa già hanno avuto modo di passare delle giornate romantiche insieme. . . . . .